Ciao a tutti e bentornati sul canale dell'Imperia. Con il video di oggi voglio mostrarvi una serie di esercizi di potenziamento per le gambe che una ginnasta può svolgere anche a casa. Ok, partiamo riscaldando i muscoli delle nostre gambe con un po' di stretching. Ci mettiamo nel fondo. Dieci volte. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Rimango sul lato e mi giro in affondo frontale. Dieci molleggi. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Cambio lato. Uno. Controllo di avere sempre il ginocchio sopra al tallone. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Otto. Nove. Dieci. Dieci molleggi. Dieci molleggi. Partiamo con i nostri esercizi per il rinforzo muscolare delle gambe. Primo esercizio. Sollevo dieci volte la gamba destra e mantengo la posizione un secondo. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ricordo che durante questo esercizio la schiena è bella dritta. Le mani mi saranno solo per un piccolo appoggio. Cambio gamba a sinistra. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Entrambe le gambe insieme. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Questo è abbastanza faticoso. Cambio di varicate. Uno. Due. Appoggio bene il palmo della mano a terra. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Dieci. Candela a pennello. Minardino bene. E... Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. 10 Ok, 10 secondi di pausa, nel frattempo vi spiego i prossimi esercizi. Faremo 5 volte candela e mi alzo solo sulla gamba destra e ripetiamo l'esercizio anche sulla gamba sinistra. Dopodiché faremo una serie di 10 di squat jump e poi una serie da 10, squat, slancio avanti, slancio laterale e slancio dietro. Pronti? Via! 1 2 3 4 5 Questo è bello tosto. Cambio gamba. 1 1 3 4 5 5 10 affondi laterali. 1 2 3 4 4 Scendo fino in fondo col bacino. 6 7 8 9 10 10 10 Affondo frontale e saltato. Posso tenere le mani ai fianchi. 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 squat jump. Piedi leggermente extradotati. 10 10 10 10 12 13 14 15 15 16 15 16 16 17 18 16 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 21 21 Slancio avanti e laterale e dietro, cambio gamba, squat, avanti, laterale, dietro, 3, avanti, laterale, dietro, 4, mantengo la gamba in discesa, non la lascio cadere, 5, avanti, laterale, dietro, 6, avanti, laterale, dietro, 7, avanti, laterale, dietro, 8, avanti, laterale, dietro, 9, avanti, laterale, dietro 10, avanti, laterale e dietro Spero che questa seduta di gambe vi sia piaciuta Se vi è piaciuta vi invito a mettere like Lasciateci qualche commento per migliorare e per prepararvi i prossimi nuovi video Ciao ciao! Grazie a tutti